Allora, ciao belle, ciao belli, hola shiche, hola shihi, ciao, ciao passerone o qualcuno ne ha richiesto. Allora, ciao gnoccolone, come va? Io devo dire bene, vi faccio gli auguri di buona Pasqua anche se oramai siamo a lunedì, io sabato e domenica, merda, non sono stata a casa, quindi vi faccio gli auguri oggi anche se non so mai quando monterò questo video lo potrò montare anche fra un mese, quindi vi farò gli auguri a suo tempo. Allora, gnoccolone, volevo fare il video su correttori, però ho detto vabbè, siccome c'è un altro video che mi richiedete veramente in tantissime, ho deciso di farlo e almeno poi non ci penso più, questa ciglia non ci vuole stare attaccata, va bene? Alla lei stasera non ci vuole stare, perché? Perché quando l'ho tirata fuori era molto dritta la ciglia e di conseguenza quando è dritta in quel modo non regge bene poi, no? Sull'occhio. Allora, naturalmente tanto avrete visto il titolo. Questo video mi è stato richiesto veramente da tantissime persone e quindi ho deciso di farlo e accontentare tutti. Allora, come avrete visto dal titolo, aprire o no un canale YouTube. Allora ragazze, io innanzitutto vi dico subito che, come tutte oramai sapete, io ho aperto il canale YouTube per caso, quindi io vi darò quelle poche indicazioni che io credo giuste e che non sono neanche indicazioni fondamentalmente e spero vi siano utili. Dunque, io ho aperto il canale YouTube totalmente per caso, non era molto, come sapete è un annetto, no, un anno ne ho, no, perché a luglio è un anno, che guardavo, chiedo scusa alle bimbe che mi hanno fatto dei pensierini e non li ho fatti vedere, non ho avuto tempo, li ho già cominciati ad usare, questo per esempio me l'ha mandata Gioia e io adoro questa la lettera, la volevo comprare, mi ha letto nel pensiero e oramai ho mischiato tutto, però lo sapete, io vi ringrazio sempre con tutto il cuore, anzi, vi ringrazio nome per nome, guarda, facciamo così. Le ultime che mi hanno mandato dei pensierini sono Momu, Giulia, un bacione tesoro, Silvia, ok, Silvia e basta, e poi appunto, io questa ragazza me la ricordo tramite Gioia, perché? Perché nelle mail si chiama Gioia e mi ha mandato dei prodotti che lei non usava più perché era diventata appunto allergica ai siliconi e deve usare tutto biologico, ma la cosa che mi ha stupito di più è che tutto ciò che mi ha mandato erano cose che io avevo, ho promosso, di cui vi ne avevo parlato e quindi questa cosa mi ha toccato molto perché vuol dire che lei ha preso molto in considerazione quello che ho detto, quindi io vi mando tanti bacioni con lo schiocco, Love you, rock and roll. Allora, io ho aperto il canale YouTube totalmente per caso, non era molto che ho cominciato a guardare i video da quando ho aperto il canale, sarà stato un annetto, non di più. Inizialmente, vi farà ridere questa cosa, io inizialmente facevo video da sola, cioè facevo dei video che non pubblicavo e li tenevo per conto mio e questa storia è andata avanti per qualche mese. Poi un bel giorno che ero a casa senza fare niente ho detto perché no? Cioè perché non farlo? Tutte lo fanno, lo posso fare anch'io. Io quando ho aperto il canale non credevo assolutamente di avere questo riscontro, io neanche un anno ho 8000, non è un anno, è ancora di un anno, ma sono neanche 9 mesi. Io ho già quasi, io credo siamo quasi a 9000 se non mi sbaglio. Non tutti guardano i miei video, giustamente come al solito ci sono delle iscrizioni e non non sempre guardano i video, ma la maggior parte lo fanno e questa a me mi dà tanta gioia. La domanda che mi fate più spesso è quella, ah mi cosa dobbiamo fare per aprire un canale? Allora ragazze, io ripeto, ripetisco che questa grande popolarità o comunque questa vostra non popolarità, ma questo vostro riscontro positivo io non me l'aspettavo. Io ho fatto solo, sono stata solo me stessa, non ho fatto altro di diverso. Io il consiglio secondo me più importante di tutti per avere un canale è essere voi stesse, non tirate fuori personaggi perché il personaggio non dura, nel senso viene fuori prima o poi che è un personaggio. Quindi credo che la cosa essenziale sia essere se stesse e questa è la cosa principale. Poi un canale si divincola in tante cose, per esempio io ho ricevuto tante richieste di tante ragazze che mi mandano dei messaggi e mi dicono Guarda Cami, per favore puoi sponsorizzarci il canale? Qualcuno mi ha detto Guarda Cami è pochissimo, ho aperto il canale, un mese sponsorizzami oppure Guarda Cami è un mese aperto il canale ma non ho riscontro, quindi non ho un riscontro dalla parte del pubblico. Cosa posso fare? Ti prego aiutami, non mi piace fare video così. Allora, io vi dico una cosa che penso. Fare video è una cosa che vi deve piacere, cioè voi dovete fare video per piacere vostro, non per un riscontro del pubblico. Perché se partite con questo piede, partite subito col piede sbagliato e al punto che non vedrete inizialmente un riscontro, perché anche io ci ho messo ad avere un riscontro, non è che subito t'arrivano 2-3 mila iscritti, vi buttate subito giù e dite vabbè allora non lo faccio più. E già questo è sbagliato. Non si fa video per gli iscritti, ma si fa video per il piacere di farli. Poi dal fare video vengono fuori collaborazioni con le aziende, partnership, quindi qualche soldino, ma quelle sono tutte cose che vengono successivamente. Cioè non partite con l'idea di fare video per questo perché partite con il piede sbagliato e comunque poi non avrete la soddisfazione reale di fare un video. Io lo sapete tanto che a me fare video piace, io quando mi annoio, quando ho qualcosa da dirvi, a me piace. Tante di voi mi dicono che è come parlare con un'amica e questo per me è davvero davvero una cosa importante. Perché? Perché questo voglio. Io sono questa, cioè a me chi mi ha conosciuto fuori, non vedo l'ora sia il 28 così ci conosciamo tutte, chi mi conoscerà il 28 capirà che io sono così, cioè mi vedrete così anche al di fuori, quindi il mio non è né un personaggio, perché ripeto il personaggio non dura, a meno che voi non vogliate fare dei video specifici sul essere un personaggio. Ma video come faccio io, make up, io parlo un po' di tutto perché fare solo make up mi annoierebbe, ma per il semplice fatto che sono una a cui piace parlare, a cui piace esprimersi e quindi solo di make up non potrei parlare. Ultimamente mi sono accorta che video chiacchiericci ne faccio parecchio meno, mi sono stati dati degli spunti che prenderò in considerazione. Dovrò fare il my life, me l'avete chiesto in tante, ma è un video abbastanza impegnativo, cioè mi devo mettere lì e disegnare, quindi insomma c'è dove qualcuno mi tiene la camera, è una cosa un po' più impegnativa. Quindi vi chiedo scusa se ultimamente faccio un po' video troppo banali e quindi troppo uguali, voi mi dite sempre che non vi annoio, ma perché voi mi volete bene, io voglio bene a voi, ma mi rendo conto che sto diventando un po' banalotta e questo mi rompe il cazzo. Cos'altro dire? Un canale è un impegno nel senso, voi lo sapete, io video li faccio quando ho voglia di farli, c'è stato un periodo che, siccome io sono una che principalmente faceva video quasi tutti i giorni, quando c'è stato un periodo di stop fra lavoro, fra che avevo voglia magari, che era un momento un po' più così, mi è stato chiesto come mai non giri più, voi dovete capire che fare video è una cosa che ti deve far star bene, se io ho un momento no, video non ne giro. Se io ho un momento in cui sono talmente impegnata con il lavoro che torno a casa, a malapena mi faccio la doccia, a malapena mangio e vado al cesso, non ce la faccio a girare video. Quindi un video deve essere un momento di relax, un momento di piacere, relax no perché qualche volta le faccio anche a corsa, ma deve essere un momento di piacere, un momento in cui uno ha voglia di condividere. Questo credo sia la cosa essenziale. Non so cosa altro dirvi, io ripeto lo sapete per me è stato un grande... io ci sono rimasta di merda perché non credevo veramente di riscontrare da parte vostra questo affetto e questo vostro essermi vicine. Sapete che per me siete state anche un grande sostegno in momenti un po' più giù. Però ecco non si parte col fare video per fare soldi, per farsi pubblicità, per collaborare con le aziende. Io vedo che spesso e volentieri su altri video viene fuori discorsi di youtuber un po' più a livello alto. Ah ma loro si pagano tutto con youtube. Ragazzi youtube può diventare un lavoro. Cioè io quando vi ho detto che anche adesso per cosa guadagnicchio, anche i miei primi soldini quando erano 70 euro perché adesso sono aumentate poco sulle 100, ma per me sono già tanti soldi perché comunque 100 euro io le faccio con 3 ore e mezzo di pulizie al mese. Quindi per me guadagnare per le 100 euro al mese sono già tante. Io ho conosciuto una tipa che, come quando facevo gli shooting, o comunque mi facevo le foto, non era tanto per le foto. Certo ora io ho delle foto che a me fa piacere tenere perché sono mie per carità. Ah questo qui è un angiomino, tutte voi mi chiedete cos'è. È un angiomino, è un capillarino rotto, ce n'avevo uno qua da piccola, l'ho bruciato. Questo andrà bruciato perché sta diventando grande, diventa anche bruttino. Ci volevo fare due impianti, però vabbè mi farò breve le trecce, ho rintracciato la ragazza, però domani c'è l'appuntamento del tatuaggio. Ragazzi sto lavorando e non ne la faccio. Ho dei, magari anche se il lavoro è, però ho degli orari che non coincidero con quello che voglio fare. Io facevo shooting solo per, esclusivamente per i soldi, cioè era una cosa che mi dava qualche soldo nel momento in cui ero nella cacca. Non so se ci fate caso, io non sto facendo più foto, ma perché perché a me non interessa fondamentalmente, cioè non è il mio lavoro, cioè lo potrebbe diventare, però ci deve stare dietro, ci deve essere una serie anche di, era un lavoro bello mi dava da spostarmi, quindi a me piaceva questa cosa anche dello spostarmi in città diverse, io sono una persona molto attiva, però credo che non sia la lavoro adatta a me per un sacco di ragioni, poi insomma non mi ci sono appassionata più di tanto. Ho conosciuto una ragazza che mi ha chiesto di come avevo fatto a fare le foto, perché lei voleva fa soldi no? E questa mi faceva, ma io voglio fare un servizio, mi voglio fare pagare, voglio fa qui, voglio farla. Allora, io anche i primi servizi che ho fatto sono stati in TF, quindi gratuiti, perché perché ti devi fare un nome, ti devi fare delle foto, comunque la gente ti deve conoscere. Lei era partita col piede sbagliato, ora poi questa io ho scoperto che ha dei seri disturbi, cioè ma non scherzando, poverina, cioè è disturbata davvero, purtroppo c'è chi nasce disturbato. Però non con questo, era partita col piede sbagliato, di voler fare foto solo per far soldi. Non sei Claudia Schiffer, ci sono ragazze che si fanno pagare parecchio meno, non sei nessuno, quindi si parte col piede sbagliato. Io credo che per qualsiasi cosa bisogna darsi da fare. I video, c'è gente che ci lavora e ci campa, però comunque siete, devi dare da fare in qualcosa. Quindi ragazze, non partite con l'idea di soldi, pubblicità, collaborazioni con le aziende, voglio trucchi, voglio questo, no. Perché tanto, se no, non sa di niente, cioè non vi godete la parte bella di YouTube. Non vi darà quello che vi deve dare. Questo è quello che penso io. E la cosa vera, la cosa più importante, essere voi stesse. Questa credo sia la cosa più importante. Poi tante ragazze, ripeto, mi dicono, ma io non ho riscontro. Ragazze, oramai YouTube c'è tanta gente che fa video, a partire dalla bimbetta di 10 anni a quella, alla donna matura di 50, oltre. Quindi oramai non è più magari come quando c'era la sendina, erano poche persone a girare video. Adesso sono veramente tante. Quindi probabilmente, se vedete che non c'è riscontro, se vi accontentate delle vostre 100 iscritte, secondo me andrete avanti molto meglio, cioè col sorriso, fate qualcosa che fate per piacere e non per gli iscritti. A me quando mi arriva queste mail, mi verrebbe da dirgli, amore, ma non mi puoi dire fammi pubblicità perché io non c'è iscritto e non c'ho più voglia di fare video allora. Perché se no i video non li devi fare. Non farli. Se deve essere una cosa perché te vuoi gli iscritti, perché te vuoi far soldi con i video. Io ho quei soldi che ho guadagnato YouTube, li ho spesi nei trucchi, cioè, perché bene o male hai un canale, comunque ti devi un attimino aggiornare, no? Non puoi far vedere sempre due fondotinti e due, cioè, no, anche se, cioè, ora io mi sono messa a uno stop, no? E io ora, giuro, mi sono messa, veramente voglio mettere da parte, ho tutto, quindi a meno che proprio non c'ho uno sfizio di qualcosa della essence, ma no. O comunque non mi piglia uno sfizio, vabbè, se c'ho i soldini, però basta perché io con i trucchi che ho vado avanti con YouTube per due anni interi. Fra collaborazioni e aziende, voi, tenere, ma avete mandato tante di quella roba che non avete idea, cioè, io alla fine basta, cioè, la roba ce l'ho, quindi va bene così. Quindi che dire, questo è il mio consiglio, poi certo, ognuno è liberissimo di fare ciò che vuole della sua vita, è liberissimo di aprire un canale YouTube per le visualizzazioni, eccetera, però credo che vi perdiate il bello del canale, il bello di avere un rapporto con voi, perché io credo che comunque quando la persona è costruita si vede, nel senso, lo vedi se una persona fa finta o no, per esempio con me si vedrebbe all'imballo, perché poi non so né dire bugie, non so essere, non mi riesce. Se a uno riesce, liberissima di fare quello che vuole, ma credo che comunque tanti nodi vengano sempre al pettine. Se qualcuno guadagna con YouTube, ragazze, fanno bene, io credo che non dobbiamo fare le ipocrite, chiunque di noi prenderebbe i soldi che gli venrebbero dati, se veramente, guardate la sindina, guardate Mr. Daniel Makeup, hanno fatto dei trucchi loro, con il loro nome, cioè sono delle soddisfazioni veramente immense, quindi credo, sì, che la piattaforma di YouTube se sfruttata bene, può dare veramente delle grandi soddisfazioni, però ragazze, sta tutto a voi gestirvela in un determinato modo, come la vita, se te la gestisci in un determinato modo, fai una certa cosa, a me quando mi piglia il nervoso, come oggi volevo andare in un posto, Manuela mi ha voluto portare, mi ha preso il nervoso, ma di quelli brutti a me mi piglia, io quando mi figlia divento brutta, però poi mi sono messa lì e ho detto camicce, che cazzo ti incazzi a fare, tanto non ci puoi andare, la macchina non ce l'hai, se non ti porta non vai, quindi basta, cioè non ti cazza più, mi sono messa a guardare la televisione, mi sono tranquillizzata e festa finita. Quindi a seconda, siete sempre voi, a seconda di come vi gestite le cose, ruota tutto intorno. Quindi io credo che, ripeto, a me è una grande soddisfazione YouTube, a prescindere delle 9.000 visualizzazioni, se devo fare come altre persone, essere, ma nemmeno falsa, però volere le visualizzazioni per forza, quindi fare determinati video solo per le visualizzazioni e quelle, non mi sa di una sega. Non mi sa di una sega perché? Perché non mi sa di un cazzo. Perché? Perché sì. Poi, ora che io vedo crescere gli iscritti, sì! Devo andare a mangiare. A me è una gioia immensa, cioè veramente. Però mi rendo conto che se ti devi basare su quello, ammattisci, diventi scema, perché non mi guardano, oddio, sbaglio video. È anche vero che se dopo un tot, i tuoi video non vengono guardati, fatti una domanda. Ma non con questo vuol dire che tu debba smettere. E quello che vi ho detto di, anzi, se ti accontenti delle tue 100 iscritte e te con loro te la godi, quello è godersela con le tue iscritte, non con le 9.000, 10.000, 30.000. Servano un cazzo i numeri. Serve il rapporto che poi si instaura. E credo che quella sia la cosa più importante e sana di YouTube. Quando a me mi viene detto ma te non ti incazzi con chi ti offende. Lo sapete come la penso? Mi posso uncazzare col il computer e batte in terra il mio computer. Perché, cioè, la prendo con filosofia. Un giorno ci troviamo faccia a faccia, discutiamone e vediamo che succede. Ma non mi interessa se mi viene detto che sono scontata una scorreggia. Anzi, è stata l'offesa più bella della mia vita. Credo che, ripeto, siete voi, siete voi che ve la gestite, siete voi che vi gestite il vostro star bene. Come nella vita su YouTube. Se avete qualche altra domanda inerente al discorso, fatemela pure che casomai faccio un sequels. Vi mando un bacio immenso. Rock'n'roll, dagli biada, buon magnà. Ciao, buoni, ciao, buone.